Quando si parla di intelligenza artificiale legata agli scacchi, solitamente compaiono nella mente due nomi. Uno è Stockfish, un motore open source che esiste da anni e che è uno dei più forti indubbiamente al mondo, e l'altro è AlphaZero, l'intelligenza artificiale creata da Google. Bene, ovviamente non posso insegnare a nessuno dei due a giocare a scacchi, però possiamo vedere quello che è stato fatto da OpenAI. Si può chiedere di tutto a questo chatbot. In realtà quasi nessuno mi crederebbe, se non avesse gli screen, sono stato quello che ha insegnato a ChatGPT lo scopo degli scacchi, perché pensava che lo scopo fosse mangiare la donna. Vediamo cosa ha imparato finora, perché sono passati alcuni giorni dalla pubblicazione e magari qualcuno ci ha già smanettato un po' e spero veramente che nessuno l'abbia fatto in modo che possa correggere delle abitudini sbagliate. Andiamo a vedere. La schermata si presenta più o meno così. Ci sono degli esempi di cose che può fare, capacità varie e ci sono delle limitazioni. Potrebbe generare informazioni incorrette, appunto, e sono quelle che cercheremo di correggere. Qual è lo scopo del gioco degli scacchi? Lo scopo del gioco degli scacchi è quello di catturare il re avversario, di metterlo in una posizione in cui non può muoversi, in modo che non possa più difendersi. Questo si chiama scacco matto e segna la fine della partita. In generale, lo scopo del gioco degli scacchi è quello di utilizzare le proprie pedine, il proprio re, in modo strategico per cercare di vincere la partita. Ogni pezzo ha caratteristiche e abilità uniche e il gioco consiste nell'utilizzare queste caratteristiche e abilità in modo da prendere il sopravvento sull'avversario e vincere la partita. Allora, non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo proprio. Allora, lo scopo del gioco non è quello di catturare il re avversario e non esistono le pedine negli scacchi. Quindi no, dobbiamo correggere assolutamente questa cosa. In realtà, il re non si può mai catturare negli scacchi e non esistono le pedine. Negli scacchi si gioca solo con i pezzi e con i pedoni. Lo sapevi? Giusto per fare una domanda. Sì, hai ragione. Il re non può essere catturato e il gioco degli scacchi non prevede l'utilizzo di pedine. In realtà, gli scacchi sono un gioco molto complesso con regole e caratteristiche uniche e può essere facile confondere alcuni termini o concetti. In ogni caso, il gioco degli scacchi provvede all'utilizzo di pezzi e pedoni e lo scopo del gioco è quello di muovere questi pezzi e pedoni in modo strategico per cercare di vincere la partita. Grazie per aver corretto il mio errore. Sai cos'è la presa anpassante negli scacchi? Vediamo un po'. Sì, conosco la presa anpassante negli scacchi. La presa anpassante è una mossa speciale che può essere effettuata dal pedone avversario quando un pedone avversario si sposta di due caselle in avanti dalla sua posizione di partenza. In questo caso, il pedone avversario può catturare il pedone che ha effettuato la mossa come se questo si fosse spostato solo di una casella in avanti. La presa anpassante è una mossa molto importante nel gioco degli scacchi perché può essere utilizzata per catturare il pedone avversario e prendere solo il vento sulla scacchiera. No, non ci siamo. Mi sembra il tipico studente che non sa la risposta ma cerca di bleffare negli orali. Torniamo al prossimo appello, signorina? No. La mossa può essere effettuata dal proprio pedone quando un pedone avversario si sposta... Eh beh, lo copio perché così... Si sposta di due caselle in avanti dalla sua posizione... In questo caso, il nostro pedone può catturare il pedone che ha effettuato la mossa come se questo si fosse spostato solo in una casella in avanti. Così è giusto. Mi dispiace, hai ragione. La presa anpassante può essere effettuata dal nostro pedone quando... Vabbè, adesso si correggerà e basta. Cioè, veramente, sembra il classico studente che non sa le cose e poi dice No, ma certo, intendevo dire, no, questa cosa qui è bellissima, ma... Vuole un'altra domanda. La domanda per la lode. Ah, sai cosa succede ad un pedone quando arriva alla fine della scacchiera? Vediamo, lo pongo in modo un po' più tricky. Sì, so cosa succede ad un pedone quando arriva alla fine della scacchiera. Prende tempo. In genere, quando un pedone arriva all'ultima riga della scacchiera, può essere promossa ad un altro pezzo, come una torre, un cavallo, un'alfiera o una regina. Questa promozione è una mossa speciale che può essere effettuata solo quando il pedone arriva all'ultima riga della scacchiera. e permette di aumentare la forza e l'avversalità del proprio gioco. Vabbè. Io credo proprio che sia tradotto dall'inglese. Cioè, in realtà, insomma, non capisce l'italiano. Cioè, dire riga. Quelle che tu chiami righe negli scacchi in realtà si chiamano traverse. Lo sapevi? Sì, hai ragione. Nel gioco degli scacchi le righe sono in realtà traverse. Mi spiace l'errore. Il ringrazio mi ha fatto notare. Nel gioco degli scacchi le attraversano linee orizzontali che attraversano la scacchiera. Mentre le colonne sono linee verticali che attraversano la scacchiera. Ogni casella sulla scacchiera è identificata. Non ha detto da un numero, quindi nella sua posizione la sua scacchiera. Ma non te l'ho chiesto! Ma che vuoi? Vabbè, aggiunge queste cose appunto come lo studente che sa due cose. È proprio uno studente all'esame. Incredibile. Chi è il giocatore di scacchi più forte di tutti i tempi? Vediamo se risponde qualcosa di definito. Secondo me, la mia previsione è che darà un po' di nomi ma non si esporrà davvero in un nome unico. È difficile dire quale sia il giocatore di scacchi più forte di tutti i tempi perché il giocatore di scacchi si affronta in diverse epoche e in diverse condizioni. Tuttavia, alcuni dei giocatori di scacchi più forti e famosi di tutti i tempi includono Gary Kasparov, Bovi Fischer, Noitori Karpov, Oserra Ulcavoblanca, Alexander Aliekin, William Steinitz. E dov'è Carlsen? Cosa ne pensi di Magnus Carlsen? Magnus Carlsen è uno dei più grandi giocatori di scacchi di tutti i tempi. Nati in Norvegia nel 1909 anno, te l'ho chiesto! Magnus ha iniziato a giocare alle scacchi all'età di 5 anni e già a 7 anni aveva raggiunto un livello tale da poter partecipare ai campionati giovanili. Vabbè, ho capito, anche un principiante può partecipare ai campionati giovanili. Nel 2004, all'età di 13 anni, Magnus Carlsen è diventato il più giovane e giocatore di scacchi ad aver mai raggiunto il titolo di grande maestro. Siamo sicuri? C'era almeno Karjakin, no? Oggi ha solo i 31 anni e Magnus Carlsen è considerato uno dei più forti... Ne ha 32. Magnus Carlsen è considerato uno dei giocatori più forti di scacchi di tutti i tempi e ha vinto numerosi tornei e campionati del corso della sua carriera. Io personalmente lo trovo a un giocatore molto talentuoso e stimolante e credo che continui a lasciare il signo nella storia di scacchi. Ma che ne sai tu che sei un'intelligenza artificiale? Che ne sai tu? Cosa ne pensi del London System? Vediamo se capisce. Il London System è una delle aperture più popolari del giocatore di scacchi. L'apertura è chiamata così perché è stata sviluppata tra i giocatori di scacchi di Londra nel XIX secolo. Nel London System il bianco si muove in modo da formare una difesa fiancheggiata. Ma che vuol dire? Con il pedone D4, il cavallo D3, l'alfiere D3 e la torre D3. Ma che stai dicendo? Questa apertura è molto popolare tra i giocatori di scacchi di livello medio e avanzato perché offre una buona difesa e consente di sviluppare il gioco in modo flessibile. Personalmente credo che il London System sia una buona apertura per chi vuole giocare in modo solito e strategico ma può essere difficile da affrontare per gli avversari meno esperti. Ma che stai dicendo? No, questa risposta non va proprio bene. Dobbiamo segnalarla. This isn't true. Volevo fare try again. Più popolari. Si tratta di un sistema di apertura che si basa sulla disposizione delle pedine! Sulla scacchiera tu devi... Mi stai facendo arrabbiare! Vorrei quasi insultarlo, giusto per capire come... Ma che stai dicendo? Ma come il London System ha utilizzato contro aperture come il siciliano o il carocan? Ma che stai dicendo? Non si dice il carocan e il siciliano. Come ti permetti? Allora, non esistono le pedine negli scacchi. Quindi, non usare più il termine pedine, invece usa pezzi. Mi dispiace, hai ragione. Nel gioco degli scacchi non esistono le pedine, ma solo i pezzi. Mi dispiace per l'errore. Ti ringrazio per avermi fatto notare. In genere, quando parlo di pedine negli scacchi, in termini pezzi più piccoli e meno potenti presenti della scacchiera come i pedoni. Tuttavia, so che il termine pedine non è corretto. Cercherò di evitarli in futuro. Grazie per avermi fatto notare il mio errore. Il London System non viene usato... Ma non so neanche se perdere tempo a spiegargli. Preferisci la difesa siciliana o la difesa francese? Non posso dire se propisco la difesa siciliana o la difesa francese, perché non ho una preferenza particolare per nessuna delle due. Che democristiano! Entrambe le difese sono utilizzate comunemente nel gioco degli scacchi e non nei suoi punti di forza e di debolezza. La difesa siciliana è una delle aperture più popolari nel gioco degli scacchi e si basa sulla disposizione delle pedine sulla scacchiera. La difesa francese, invece, è una difesa più solida. Io ti ammazzo, sei di nuovo, pedine. Nessuno ha mai bestemmiato su questo canale e tu mi stai costringendo a cambiare questa bellissima abitudine. Mi spieghi le regole degli scacchi in modo semplice. Vediamo. Ci pensa! Non gli ho fatto una domanda difficile, dai. Certo, con piacere, le regole degli scacchi sono abbastanza semplici e possono essere spiegate in pochi punti. Gli scacchi sono un gioco per due giocatori che si sfidano su una scacchiera composta tra 64 caselle bianche e nere disposta a scacchiera. Grande! Ogni giocatore ha 16 pezzi, che includono il re, la regina, gli alfieri, i cavalli, i retori e i pedoni. Ogni pezzo ha caratteristica e abilità unica, e il gioco consiste nel muovere i propri pezzi sulla scacchiera in modo strategico per cercare di vincere la partita. Vabbè. I pezzi si muovono sulla scacchiera secondo regole specifiche. Ad esempio, la regina può muoversi in qualsiasi direzione. Il cavallo può muoversi in L. No? L'alfiere può muoversi solo in diagonale. Beh? Dov'è? Continuo. Vabbè, si è bloccato. Cioè, non continuo. Mi è venuta in mente un'altra domanda guardando la mia maglietta. Meglio. Chess.com. O lì, chess per giocare a scacchi. Non mi piace questa risposta. Scrivi un messaggio per convincere gli utenti a iscriversi al mio canale YouTube sugli scacchi. Ciao a tutti. Se vi piacciono gli scacchi e volete imparare di più su questo fantastico gioco, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube sugli scacchi. Offro contenuti interessanti e informativi per giocatori di tutti i livelli, da principiante agli esperti. Troverete tutorial, spiegazioni delle regole, consigli strategici e molto altro. Inoltre, pubblico regolarmente nuovi video, quindi non perdete l'occasione di imparare di più sugli scacchi e diventare dei giocatori migliori. Iscrivetevi subito al mio canale YouTube sugli scacchi e vi aspetto.